Ciao ragazzi, allora questo è un saluto per tutte le persone che mi seguono Adesso è tardi domenica, ho promesso un video sabato, ahimè, l'ho fatto adesso Questo sarà l'ultimo video che farò prima delle vacanze Quindi vedremo se riusciamo a mandare, non so, comunque se volete scrivete un'email Magari vi rispondo perché sono riuscito a procurarmi una chiavetta dell'A3 di mio fratello E magari, non so, un'email così riuscirò a farla Upload video non lo so perché ci mette magari tanto, non lo so Però magari qualche cosa, vediamo un attimo se riusciamo a farlo Vediamo un po' Nel caso non so quanto mi contatterò via internet o così, magari poco Quindi vedremo un po' Comunque questo è un saluto, vi auguro buone vacanze a tutti, divertitevi e mi raccomando Quelli che devono studiare, studiate ragazzi Mettetevi sotto e fate i compiti che mi hanno dato per l'esame Per settembre Però mi raccomando, prima di tutto divertitevi, prima il piacere poi il dovere Bene dai, ciao a tutti, statemi bene A proposito, domani di Chiega di Catania, boh, non so, tipo a Ivanis, così Io a terra, se volete, alle 11 e un quarto All'aeroporto di Catania E se volete mi mandate un'email che magari vi do il mio recapito Non lo so, se volete Così nel caso facciamo un salto, ci beviamo qualcosa Così tanti dovrò stare lì fino alle 5 Perché devo aspettare il bus Quindi vabbè, dai Ciao ragazzi, ci vediamo che è di Catania Ci vediamo domani se vuole Ciao, ciao, ciao